Mancano pochi giorni all'inizio del Carnevale di Fano, ma oggi in una conferenza stampa che si è svolta nel foyer del Teatro della Fortuna, sono state confermate iniziative e annunciate novità. Sperando di avere il sole, che è la cosa più importante, abbiamo dato anche delle novità. Questa mattina si è parlato del Carnevale finalmente degli animali, gli Animar Flandli, che vi aspettiamo tutti dalle 11 in Via Roma, il contatto e il nostro rapporto con il teatro, il mondo dello sport e che dire, siamo ormai agli sgoccioli. Vi ricordo che fino a venerdì 30 potete trovare gli ultimissimi palchi a prezzo scontato, quindi in prevendita una decina di palchi per l'1 e per il 15, mentre per l'8 sono già tutti esauriti, sono rimaste le poltroncine che ancora potete trovare. E che dirvi, vi aspetto tutti per queste grandi novità, state informati, amici fanesi lasciate a casa per carità le macchine, cercate di venire lungo il percorso a piedi, così non intralziamo il traffico e che dirvi, vi aspetto alla mattina con il Carnevale dei Nonni e a seguire il pomeriggio con questa grande parata del Carnevale 2015. Saranno tanti gli appuntamenti per il primo febbraio, a partire da quello in piazza 20 Settembre con il complesso bandistico Città di Fano, che darà il via ufficiale alla Kermess, a seguire il Carnevale dei Nonni in via Le Gramsci e poi una delle novità di questa edizione, l'Animal Friendly, una passeggiata con gli animali ospitati al canile municipale, organizzata con l'associazione Melampo. Saranno 13 gli animali a 4 zampe che partiranno alle 11 dal Ponte Storto in via Roma fino ad arrivare all'Arco d'Augusto e per l'occasione parteciperanno con simpatici cappottini cuciti su misura per loro. L'obiettivo dell'iniziativa sarà quello di sensibilizzare la cittadinanza sulla loro adozione, inoltre verrà distribuito del materiale informativo contenente suggerimenti su come vivere e convivere con i cani, ma non mancherà poi una dolce sorpresa, infatti in una pasticceria della zona verranno preparati dei biscotti artigianali per ciascuno. Il canile è pieno di cani, questi cani sono creature meravigliose, hanno bisogno di entrare a far parte della società, abbiamo accettato di prendere parte a questa manifestazione semplicemente perché vogliamo che vediate che belle creature sono, quanto sono in gamba, quanto sono equilibrati, quanto sono educati, come li avremo bene incappottati perché saranno deliziosi. Cerchiamo adozioni consapevoli, devono uscire dal canile, devono uscire da quel piccolo angolo di mondo che è stato loro riservato e devono entrare a far parte della vita. E chiunque vorrà potrà partecipare alla passeggiata con il suo cane. Un'altra novità invece riguarda l'organizzazione di un concorso fotografico nazionale che permetterà agli appassionati, sia dilettanti che professionisti, di cimentarsi negli scatti sui riti, costumi e sui dettagli dell'evento più antico d'Italia, con fantasia e creatività. Il simbolo del concorso è un'immagine estrapolata da un libro di Paolo Talevi e Marco Ferri dedicato al Carnevale e che rappresenta un cappello sorretto da una mano alla ricerca delle caramelle. Tra i premi invece ci sono un weekend per due in una città italiana, una cena per due in un ristorante fanese e un buon acquisto del valore di 100 euro per libri di fotografia. È uno strumento a disposizione di tutti, le immagini si possono mandare su semplicemente per email e l'email è concorso chiocciolacarnevale, chiocciolagmail.eu e così insomma è gratuito e le immagini poi verranno valutate dal fotoreport di rilievo internazionale Tano D'Amico. Quante fotografie è necessario inviare? Allora noi diciamo di inviare dalle 4 alle 20 immagini perché così chi vuole può raccontare il Carnevale di Fano con una sola fotografia oppure addirittura fare una sorta di racconto visivo che naturalmente sarà ben accetto in giuria. Questa mattina poi l'assessore allo sport Caterina Delbianco ha citato gli eventi sportivi collaterali che riguardano rugby, basket, i pattini su strada e tanti altri mentre il presidente del Teatro della Fortuna, Katia Amati, ha presentato il programma degli spettacoli nato dalla sinergia con il Carnevale e che partirà sabato sera con i comici del San Costanzo Show ma che vi racconteremo nell'edizione del Tg di domani sera. Insomma un evento che coniuga cultura, arte, enogastronomia, divertimento è capace di mettere in risalto tutte le eccellenze che offre la città della fortuna.